Tenuta Cantagallo Eventi, un nome che dice tutto. A Francavilla Fontana e in provincia di Brindisi, una struttura elegante ed accogliente per ogni evento. Dai matrimoni ai compleanni, i diciottesimi, il battesimo, le cresime, ma anche feste di lauree e defile di moda. Ogni festa organizzata alla Tenuta Cantagallo è sempre una sorpresa. Per concludere, qualunque sia il vostro budget di spesa, alla Tenuta Cantagallo la vostra festa sarà sempre e comunque un grande evento. Tenuta Cantagallo Eventi, a Francavilla Fontana sulla via per Carosino al chilometro 4, per info 0831 890919. Antonello Papalia, priore dell'Arci Confraternita del Carmine, un evento, questo che si sta tenendo, celebrando qui nella biblioteca a Clavio di Taranto, dedicato ai giovani e ai riti della settimana santa. Una rivisitazione della stessa lungo il corso del tempo, degli anni, attraverso cartoline, documenti vari, articoli di giornale. Una storia, come dire, che si ripete ogni anno e che è sempre più attuale, la Passione di Cristo. Non solo attuale, ma anche attrattiva. La dimostrazione di quanto sia interessante sta nel fatto che le processioni di Taranto sono composte nella nostra grande maggioranza da giovani, giovanissime, da 16 a 25 anni. I componenti delle processioni che superano i 30 anni sono pochissimi, quindi questo dà il senso di quanto sia attrattiva la settimana santa a Tarantina. Il Comitato Qualità della Vita, il nostro buon Carmine Carlucci, anche lì con fratello, è da anni impegnato in un'attività di valorizzazione dei riti perché credo che non c'è mai fine alla divulgazione, soprattutto al giusto messaggio che deve essere dato, perché tante volte si parla molto e al proposito. Quindi quando invece i messaggi che vengono dati attorno ai nostri riti, sul significato, sul valore, soprattutto sul messaggio di evangelizzazione che si portano, è sicuramente una divulgazione corretta e appropriata. Grazie.